Ciao a tutti e benvenuti! Nel video vi vorrei mostrarvi come creare un network wifi con il tuo ESP32 dev board, usando il modo soft ap del chip. Come usual, nella descrizione video potete trovare i link a questo tutorial sul mio blog e al mio ripositorio github dove potete download il codice del programma. Ok, cominciamo il programma. Come vedete il modo soft ap è iniziato e ora il mio dev board è broadcasting a wifi network con ESP32 APSSID. Qui il mio laptop può vedere il nuovo network e posso connessurarlo. Ok, sto usando WPA2 sicurezza, quindi devo portare il password corretto per poter connessurare. Il mio laptop è connesso e il evento corrispondente è triggato. Il programma usata la lista delle stazioni connessi, anche l'addressa ip. E per assicurare che il mio laptop può comunicare con il dev board, posso provare a ringraziare l'addressa. E come potete vedere, funziona il ringraziamento di ringraziamento. Grazie a tutti! Grazie a tutti!